Musica Antonio, belli duri oggi, è andato a filo della torcia, è stata una partita comunque bella, gradevole da vedere, voi giocate sempre bene. Sì, dai, stasera ci siamo divertiti, belli duri di nome di fatto, per almeno per una volta, dai. Comunque è andata bene, ci siamo mossi bene, bei scambi e bei gol, diciamo dai. Ho visto che guardavi la classifica cannoniera, hai visto i quattro gol di oggi, però mi dicevi la prossima non ci sono, il rischio deve essere sorpassato. Sì, sicuramente sono sorpassato, mi sembra che lui abbia un gol più di me, io la prossima non ci sono, ci sono altre quattro partite, però noi siamo già tagliati fuori dai playoff, loro sono privi dell'altro girone, quindi probabilmente vince lui. Senti, ho visto che avete fatto qualche innesto importante, la maglia ce la ricordiamo, forse era una maglia dell'anno scorso che giocava sempre a zona gol, porta bene però. La scorsa partita non l'ha portato molto bene. Però dai, pian piano si stava dando i progressi. Esatto. Sembra che l'obiettivo sia migliorare. Migliorare per fare un buon primaverile, abbiamo qualche tornato Spinelli e avremo altri due o tre innesti abbastanza importanti. Annunciamo un grande mercato per il primaverile e quindi chiaramente si deve puntare a cose più importanti. Facciamo come Gagliano, non abbiamo preso ancora nessuno. Per il momento è tornato Spinelli, poi vediamo il mercato come si evolve. Faccio i complimenti, completiamo la partita. Grazie, ciao.